Anche il racalmuto contro la violenza sulle donne? Sì, il racalmuto scende in piazza contro la violenza sulle donne, come ovunque possiamo dire. Come a Roma, a Roma c'è una manifestazione non una di meno. Noi marciamo accanto a tutte le persone che non ci sono più, le sentiamo accanto a noi. È una marcia silenziosa, sperando che si possa muovere qualcosa. Chiediamo prevenzione, protezione e pena per coloro che tolgono la dita alle donne. Alle donne solo per una questione di genere e di potere. Sindaco, anche il racalmuto dice no alla violenza sulle donne? Sì, sono giornate speciali. Il problema della violenza della donna, della discriminazione, purtroppo sono problemi attuali. come ci rivelano le cronache quasi tutti i giorni. È necessario che la comunità onori queste ricorrenze, che devono diventare momenti di riflessione per rendere più forte e più sana la nostra comunità. Sfilare insieme fa bene, ricordare le tante vittime è un dovere, ma soprattutto impegnarsi per correggere le strutture della nostra società e per creare un mondo dove ci sia amicizia, pace e soprattutto la libertà per ogni individuo di poter esprimere e manifestare se stesso senza essere discriminato dai propri simili.